Uomini e donne, chi è Maurizio, il nuovo corteggiatore di Gemma? A Uomini e donne, i telespettatori hanno fatto la conoscenza di Maurizio, con cui Gemma sta iniziando una frequentazione. Tra lei e il Cavaliere sembra esserci un grande affiatamento, ed in tanti pensano che possa nascere qualcosa tra loro. Ma ecco tutto quello che c'è da sapere su Maurizio, il cui nome per intero è Maurizio l'Audicino. Uomini e donne, chi è e cosa fa Maurizio l'Audicino, che sta corteggiando Gemma? La nuova edizione di Uomini e donne, sembra essere iniziata al meglio per Gemma Galgani. La dama del trono over ha iniziato a conoscere Antonino, di 54 anni, pur chiudendo la relazione con lui, ma soprattutto Maurizio l'Audicino, per il momento conosciuto dai telespettatori soltanto come Maurizio. Tra lei e il Cavaliere sembra esserci molta affinità, come ha dimostrato l'esterna che hanno fatto assieme in piscina. Gemma è sembrata molto felice di stare con lui, ed ha fatto anche battute con doppi sensi, che non sono passate inosservate in studio, e che sono state criticate da Tina e Gianni. In tanti si sono chiesti chi sia Maurizio. Il Cavaliere ha già risposto a qualche domanda con Tina, in merito alla sua vita professionale. Maurizio è un esperto di marketing amante dello sport, ed è proprio in questo settore che lavora. Ha ottenuto dei grandi successi in questo campo, e per tale ragione ha dei guadagni mensili molto alti, come ha lasciato intendere alla Cipollari che gli ha fatto molte domande in questo senso. Sul web è possibile trovare il sito di Maurizio dedicato alla sua professione, in cui parla dello sport marketing management, e racconta di provenire da un settore lavorativo completamente diverso. Da quando però ha scoperto la sua passione per lo sport, ha deciso di dedicarsi a questo ed ha ottenuto anche dei successi. Uomini e donne, l'età di Maurizio e la frequentazione con Gemma Per quanto riguarda l'età di Maurizio, argomento che è stato e sarà ancora al centro del dibattito, per via della differenza con Gemma, sappiamo che il cavaliere ha 57 anni. Tina ha evidenziato questo aspetto, chiedendo a Maurizio come possa essere attratto da una donna, che ha quasi 20 anni più di lui. Maurizio ha replicato di essere attratto, principalmente dall'intelligenza di Gemma, aspetto che per lui è la cosa più importante, e poi è incuriosito da lei sotto vari punti di vista. Il cavaliere ha poi aggiunto di ritenere Gemma una bella donna. Perciò sembra proprio che la differenza d'età non ci sia nessun problema. Per il resto, non si conoscono altri dettagli di Maurizio, della sua vita privata, o delle relazioni precedenti. In particolare, l'audicino ha rivelato di non essere nel programma per i follower, ma di voler vivere un'avventura fino in fondo, avventura che finora è iniziata con Gemma e potrebbe proseguire con lei. Voi che cosa ne pensate? Secondo voi andrà bene tra Gemma e Maurizio, e che idea avete sul cavaliere? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti. Grazie!